ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco sterimar allergia nasale a cosa serve sterimar allergia nasale a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi nasofaringei altri è commercializzato in italia dall'azienda laboratori baldacci spa informazioni commerciali titolare soffi bel laboratoires sfumozze concessionario laboratori baldacci spa categoria di appartenenza dispositivi nasofaringei altri confezioni sterimar allergia nasale soluzione fisiologica a base di acqua di mare spray nasale 100 ml indicazioni elimina gli allergeni previene starnuti goccia al naso e prurito descrizione e caratteristiche soluzione fisiologica base di acqua di mare filtrata e senza conservanti arricchita con manganese fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato